Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ho contato uno, due, tre, quattro, cinque per far vedere che non l'ho fatto immediatamente l'ho messa lì poi ho contato uno, due, tre, quattro, cinque e poi l'ho tirato voglio dirvi due o tre elementi con questa ragazza voglio dirvi due o tre elementi con questa ragazza prima era già tratta abbiamo visto quando facevamo così con la mano che aveva la trazione ma prima, quando ho iniziato a fare la ragazza probabilmente ho detto una parola che per alcuni è bene ma forse ho detto una parola che per alcuni va bene ma per lei fu bloccante perché ho detto stai perché l'ho detto sta quindi in qualche modo, magari, si dice devo non muovere stai così stai così ma stai così quindi ho deciso di dire lasciate andare indietro lasciate andare indietro cambiare volontari ok ho detto di farlo anche quindi era chiaro che non deve restare ok ancora lasciate andare questo è molto bene anche perché ho visto che non stai non stai vedevo che non cadeva ma stava muovendo le sue spalle in generale quando le persone non cadono indietro in qualche modo scaricano l'energia scaricano l'energia sulle spalle quindi non cadono e dopo non cadono in qualche modo in qualche modo alcune persone sono ancora bene per il master letter alcune persone sono anche utili al master letter ah che non Grazie